Un traffico di passeggeri raccolti a fermate fantasma di bus diretti in Albania all'uscita del casello della 14 a Pesaro o nei pressi delle mura cittadine è stato scoperto dalla polizia stradale di Fano che ha multato per 500 euro ciascuna delle due aziende di trasporto albanesi. Stando alle indagini il meccanismo sarebbe abbastanza diffuso in ambito internazionale. Alcune aziende regolarmente autorizzate a svolgere servizi lungo tratte internazionali accettano prenotazioni sul passaparola e online e utilizzano fermate abusive. Nel caso di eventuali controlli di polizia i viaggiatori sanno di dover dichiarare di essere parenti di un membro dell'equibaggio o di aver chiesto un passaggio. Non solo, alcuni automezzi controllati dagli agenti viaggiavano senza dispositivi antincendio con pneumatici consumati e uno addirittura con il parabrezza danneggiato. Oltre alle sanzioni è scattata una segnalazione al Ministero delle Infrastrutture per eventuali provvedimenti a carico delle aziende.